Buonasera da TG Flash Economia, ecco in pillole le novità economiche della settimana. Seattle con sede a Forlì è distributore italiano di Filson, abiti e accessori disegnati e realizzati per la vita all'aria aperta e quindi resistenti, comodi, di gran qualità e tecnicità. Dall'America arrivano i tessuti più pregiati in lana McNo, dell'antica azienda di Seattle, lavorati e finiti con vestibilità italiana e un design funzionale. Non solo indumenti, Filson e anche borse, accessori, bottoni, etichette, tutti dettagli che danno ai capi un sapore di selvaggio.